Montagnoli stasera presenta il programma elettorale dei prossimi cinque anni partendo da quello che si è seminato nei primi cinque. Sì, buonasera a tutti. Allora, questa sera partiremo con una carrellata dal 2019 al 2024. Cosa ha fatto questa amministrazione uscente? Ha fatto tante opere, moltissime opere direi, per 7 milioni e 200 mila euro circa. E poi passeremo a cosa faremo negli anni successivi se saremo eletti logicamente. È una serata importante perché abbiamo preparato anche del materiale illustrativo per i cittadini che potranno leggerlo, esaminarlo e approfondirlo con calma anche a casa. Dopodiché avranno un altro documento in cui avranno il programma che andremo a sottoporre alla cittadinanza. Sono stati cinque anni impegnativi in cui dobbiamo considerare anche i due anni di Covid, ma questo non ci ha frenato, specialmente sulle opere. Magari c'è stato un rallentamento su altri settori, ma settori perché non potevano unire le persone perché c'era il periodo del Covid. Quindi noi siamo fiduciosi, abbiamo una squadra molto valida, una squadra unita, una squadra e quindi quando uno ha una squadra forte cambia pochi giocatori, cerca di integrare magari quelli che mancano oppure quelli che servono. Quindi noi siamo ben contenti di portare avanti questa politica del fare. Io in prima persona ci metto sempre la faccia e ci tengo a sottolineare da sempre che sono il sindaco di tutti. Io parlo con tutti, ho sempre parlato con tutti prima di essere sindaco e anche quando ero nel mandato che mi aspettava per questi cinque anni. Come sta cambiando Arsago? Che cantieri stanno per partire che magari ancora non vediamo? E quali pensa di far partire nei prossimi cinque? Allora, i cantiere che stanno partendo sono già partiti. Sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica con lampade, linee elettriche e quadri. È già stato appaltato, l'impresa ha racimolato adesso i materiali dai fornitori e questo fine mese, inizio di giugno, sarà un progetto che porterà avanti per circa 8-10 mesi perché è un lavoro molto lungo questo qua. Dopodiché abbiamo il Parco Piscina che è partito con le fondazioni dell'ampliamento. Questo edificio era dal 2002 fermo e con una destinazione commerciale di VAR ma non avendo fatto il completamento del progetto che era già previsto nel 2002 e quindi questo progetto era Monco, è stato fermo per 20 anni e quindi noi riteniamo che la posizione che rappresenta il Parco Piscina deve essere implementata per tutta la gente che frequenta il parco che è il parco principale e il secondo parco è quello di Via Neruda che anche lì abbiamo delle operazioni in corso per poterlo ampliare e migliorare. Tangenziale, un sogno, un obiettivo, qualcosa di cui si parla da troppi anni che cosa si è fatto in questi cinque anni, che cosa si pensa di fare? Allora innanzitutto tengo a sottolineare che al tavolo della Regione il Comune di Ersago siede, tanto è vero che martedì 21 saremo seduti al tavolo in Regione per le opere del gruppo 1. Le opere del gruppo 1 quali sono? Sono la tangenziale di Ersago in primis e sono delle opere che vengono finanziate dalla Regione Lombardia. Poi le opere del gruppo 2 saranno quelle finanziate dal Ministero o dall'ANAS e quindi molto più complesse, molto più costose. Però nel programma, visto che il masterplan è stato approvato, visto che la Regione ha firmato con noi, con tutti i sindaci del CUB, che stasera alcuni saranno anche presenti a questa serata, abbiamo portato avanti una trattativa, possiamo dire, ponderata, misurata, per poter beneficiare sia il cittadino per le misure migliori per l'ambiente e per il rumore, che per la viabilità che dal piano d'area del 99 erano fermi. Quindi il Comune di Ersago è in primis seduto al tavolo della Regione per un impegno importante, perché questa tangenziale potrà sbloccare molto del centro storico del nostro Paese, che adesso è trafficatissimo, anche con i mezzi pesanti, che limitano molto le persone. La lista civica è la sua, ma gli ospiti di questa sera dimostrano che l'impronta è fortemente quella del centro-destra. Devo dire che la nostra è una lista civica, gli ospiti di questa sera sono ospiti che arrivano dal Comune, cioè nel senso che chi parteciperà stasera è gente che arriva dalle amministrazioni comunali e sono riusciti alcuni ad andare, ad esempio, nel Parlamento Europeo, altri stanno cercando, ma sono dei sindaci. Dei sindaci o vice sindaci che capiscono i problemi della comunità direttamente. Quindi sono persone che possono dare un input migliore anche al nostro Paese con dei consigli o con delle collaborazioni. Ultima domanda, sindaco uscente Fabio Montagnoli, sfida l'ex sindaco Claudio Montagnoli. Una sfida vincente ad Arsago, sempre stavolta. Sì, è una sfida tra due Montagnoli, come si suol dire. Io cosa posso dire? Io ho cercato di fare il mio meglio. Parlo per me perché io sono una persona umile, quindi ho cercato di fare il mio meglio. Si possono commettere piccoli errori e quelle cose lì, ma sono nella routine. Sono un sindaco alla buona, sono un sindaco che si rabocca anche le maniche per poter mettersi a disposizione del Paese. Diciamo che il Paese può funzionare bene quando c'è una collaborazione delle associazioni. sono la cosa più importante in una piccola comunità per poter portare avanti tanti progetti a disposizione per gli stessi cittadini.